Buonasera a tutti, eccoci qui. Buonasera, buonasera, benvenuti a Non è l'arena. Allora, il Premier Conte è al centro di un fuoco di fila molto potente, non solo l'opposizione come più o meno è naturale, ma anche dall'interno della sua maggioranza. Questa mattina ha fatto una bellissima intervista con Massimo Giannini, neodirettore della stampa, lo salutiamo, è un grande amico Giannini, e ha detto delle cose, ne parliamo e iniziamo a parlare con il Presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, eccola. Buonasera, buonasera. Prego, si accomodi. Come se l'avessi salutata. Brava. Pensi che è la prima donna che vedo così da vicino durante la clausura, quindi a rischio, perché sa, sta clausura avrà anche il piacere monacale del vivere. Ha i suoi limiti, sì. Ecco, va bene. Senta, c'è stata un'intervista questa mattina sulla stampa, dove il Premier Conte, insomma, dice, abbiamo fatto, però effettivamente bisogna velocizzare, soprattutto la parola velocizzare. Come la legge? Guardi, come la leggo? Sono d'accordo sul fatto che il governo debba velocizzare. Sono così d'accordo che avevamo, come Fratelli d'Italia, fatto una serie di proposte perché si velocizzassero delle risposte delle quali i cittadini avevano bisogno. Perché io dissi anche a Conte, l'ultima volta che ho avuto modo di parlarci, che non aveva senso che in una nazione nella quale tutto è bloccato, perché in Italia tutto è fermo, il Parlamento lavora due giorni a settimana, se va bene, le fabbriche sono chiuse, i negozi sono chiusi, i processi non si tengono, le messe non ne parliamo, i funerali, se siamo meno di 15, la burocrazia sta ancora lì. Tal quale, identica. Ecco, ma la burocrazia è una scusa per... insomma, è troppo facile dire sempre... lo sentiamo da dire ai tempi di Gioliti. La burocrazia è una scusa se qualcuno la difende, che è esattamente... Ma non era questa l'occasione buona per eliminarla del tutto? Quello che ti sto dicendo è solo... Drammaticamente via? Certo che sì. Io ho detto a Conte che diceva noi non interpelliamo il Parlamento per le norme che riguardano la libertà dei cittadini perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo. Guarda, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, invece di farli per dire alla gente se può non può uscire di casa, farli per pagare la cassa integrazione oggi. Farli per far arrivare oggi i soldi del decreto liquidità perché invece su quello aspettiamo il passaggio delle regioni, il passaggio... Addirittura noi abbiamo fatto, Massimo... Sì, ci sono poi delle regioni che sono in ritardo sul problema della cassa integrazione. Noi abbiamo fatto una battaglia senza quartiere sul tema dell'obbligo di contrattazione sindacale. Ma è normale che in un momento come questo un imprenditore che deve mettere la gente in cassa integrazione deve aprire la contrattazione con i sindacati? Abbiamo per settimane combattuto su questo, poi è stato tolto da una parte... Cioè, voglio dire, hanno messo delle grandi tax force, hanno messo Vittorio Colau su... Allora, guardi, intanto... Cioè, lei cosa pensa di questa... Mi piacerebbe sapere che cosa fa tutta questa gente perché noi abbiamo 450 persone che coadiuvano un governo che già ha 65 componenti tra ministri e sottosegretari, staff vari che conosciamo bene. La Presidenza del Consiglio dei Ministri spende più di 300 milioni all'anno... Ci sono poche donne, tra l'altro, e non ci sono imprenditori, gente che deve... Allora, bravo, all'interno del tema delle donne non ci sono imprenditori, che secondo me è una follia. Ma poi se posso dirle una cosa, io senza togliere nulla Colau, per carità, è grande rispetto. Ma se vuoi dirmi come devo riaprire in Italia, al minimo ci devi stare. Cioè, lei dice che lui è a Londra... Capre in Italia, vivendo stabilmente a Londra e senza mai mettere piede in Italia. Perché io, francamente, qualche, diciamo, dubbio sul fatto che si possa avere chiaro che cosa sta accadendo in Italia stando a Londra, ce l'ho. Dopodiché, a me pare... Però mi scusi, sai una cosa che non riesco a capire? Per esempio, c'è gente... Andiamo al di là. In questi momenti bisogna andare al di là di destra o sinistra, in un momento così complicato. Per esempio, Calenda, che è una persona che ha delle idee, è propositivo, conosce la materia. Allora, mi diceva, lo avremo ospite anche questa sera, mi diceva in queste giornate in cui ci siamo sentiti che non c'è questa attenzione per le cose che l'opposizione dice a Conte. Cioè, non siete ascoltati. È così o no? Guardi, ci sono gli atti che parlano, ringraziando Dio. Noi abbiamo presentato al decreto Cura Italia una serie di proposte emendative, di emendamenti. Se io invito tutti ad andare a leggere per capire se le cose stanno come dice Giuseppe Conte, che noi facciamo delle proposte pretestuose, il tema dell'obbligo della contrattazione sindacale di sospenderlo, era oggetto di uno degli emendamenti di Fratelli d'Italia. A noi hanno detto di no, poi in parte lo hanno inserito nel maxi emendamento del governo, ma tutte le nostre proposte, tutte, sono state falcidiate. Sa qual è l'unico emendamento di Fratelli d'Italia che è stato accettato dalla maggioranza del Cura Italia? Quello che inseriva Brescia tra le province particolarmente colpite, perché si erano dimenticati di Brescia. E allora lì proprio non hanno potuto dire questo no, però per farle capire il tenore degli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia. A un certo punto noi li abbiamo ritirati tutti e ne abbiamo lasciati 20. Abbiamo detto questi 20, che per noi sono questioni di particolare importanza, io per esempio dico appunto bisogna tagliare non solo la burocrazia, ma tutti i vincoli per le imprese. In questo momento gli indici sintetici di stabilità, piuttosto che il tetto al contante, piuttosto che adesso c'è dal primo luglio ci parte il registratore di casa, cioè tutta questa roba qui, via, via, perché noi rischiamo che in Italia non riapra più nulla. Fare un anno bianco da un certo punto fiscale anche. Stai anche, noi stiamo lavorando su una proposta di un unico anno fiscale tra 2019 e 2020, che vuol dire rinviare adesso tutti i saldi, quelli che si dovrebbero pagare a giugno, di un anno, e di fatto alla fine compensare gli utili 2019 con le perdite del 2020. E la stiamo confrontando con le associazioni di categoria, perché poi in questa fase c'è poco da fare campagna elettorale. C'è da rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare, e noi stiamo ascoltando tutte le associazioni. Non vedo anche fondi a perduti, cioè tu dovresti dare ai piccoli imprenditori, i parrucchieri, le gente che vive in draus, quelli che hanno dei picco, delle botteghe, eccetera, dovrebbero arrivare dei fondi sui loro conti correnti, cifre costerà. Ma se tu chiudi queste aziende qua, è peggio per il paese del domani, devi aiutarle in questo momento, ma è possibile che sia così complicato? Assolutamente sì, non è complicato, è un fatto di scelte. Allora, visto che lei ha aperto il tema, mi pare un tema molto centrato, perché questa roba del decreto liquidità, per cui, punto primo, l'unica speranza che hanno questi piccoli imprenditori è di doversi indebitare, ma segnalo sommessamente che c'è gente che non se lo può permettere. Quindi o immagino una quota a fondo perduto, o decine di migliaia di queste attività, non riapriranno... Se no c'è la mafia, perché è l'usura, presta i soldi, fa finta e gli aiuta e poi gli prende il posto. È il reato che ha aumentato di più nell'ultimo mese, secondo gli studi. Però mi faccia dire anche un'altra cosa. Secondo me c'è una norma nel decreto liquidità, che è folle. Che è quella norma che consente per i prestiti più piccoli, quelli alla microimpresa, quelli garantiti fino a 25 mila euro, fino al 25% del tuo fatturato, che vuol dire che per prendere 25 mila euro comunque l'anno precedente dovevi aver fatturato almeno 100 mila, non prendono tutti i 25 mila euro. C'è una garanzia al 100% dello Stato e il decreto consente alle banche di utilizzare la garanzia del 100% dello Stato non per erogare nuovi prestiti, ma per rientrare dei vecchi prestiti è sufficiente che la banca ti dia il 10% in più. Cioè se io sono un artigiano e avevo un prestito di 10 mila euro con la banca, basta che la banca me lo allarghi a 11 mila, cioè mi dà fisicamente 1 mila euro e ha la garanzia del 100% coperta dallo Stato su tutti i 15 mila. Ma questo perché è stato scritto male. E secondo me è una follia. No, no, questo è stato scritto male. Perché è una roba che aiuta le banche, ma la gente prenderà 4 soldi. Basterebbe chiedere agli esperti, ma che le banche hanno... Voglio dire, le banche non è che fanno beneficenza, devono essere anche loro... Ponte gli ha chiesto un gesto d'amore. Ripeto, per me le banche non fanno l'amore, e fanno sesso, nel senso che loro vanno al punto lì. Ma non posso chiedere alle banche di fare l'amore. Devo dire alle banche cosa devono fare, mettere anche in condizioni di non rischiare a loro volta, certamente. Devi dire che tu dai una garanzia... Intanto devi dire, ripeto, che c'è il fondo perduto. Devi dire che i tempi di restituzione sono molto più lunghi di quelli individuati dal governo. E devi dire che se vuoi il 100% della garanzia statale, ce l'hai sui prestiti nuovi, non su quelli vecchi. Perché altrimenti la gente non la vedrà questa famosa liquidità. Andiamo in Parlamento. Questa settimana è stata molto calda. Lei ha avuto anche un'uscita molto ironica. Gliela faccio vedere. Non gliela faccio vedere subito. Gliela faccio vedere Renzi. Poi diciamo cosa ha detto lei. Lei ha detto 11 volte. Io l'ho ascoltata con attenzione. Noi consentiamo. Nel campo delle libertà costituzionali il Presidente del Consiglio, come pure in qualsiasi parlamentare, non consente. Perché le libertà costituzionali vengono prima di lei. La libertà costituzionale le permette di essere dove lei. È quella visione della Costituzione octuayé, concessa, tipica dell'Ottocento, che viene richiamata da uno che dice consento ad altri la libertà. Lei non la consente la libertà. Lei la riconosce la libertà. E siccome so che ne è certo e ha fatto una citazione d'otta greca, mi lasci dire con Seneca, nell'aula del Senato risuoni la parola di Seneca, non licet tibi, qui qua marbitro tuo facile, non licet tibi, ma non al Presidente Conte, a qualsiasi Presidente. Lo dico qui perché in questa aula io rivendico di aver contribuito a creare un altro governo quando un senatore, il senatore Salvini, ha chiesto i piani poteri. Non li abbiamo negati a lui per dargli ad altri. Lei è stata molto ironica perché a un certo punto ha detto pensate come siete messi se io, Giorgia Meloni, devo darvi lezioni di democrazia. Vabbè, è veramente un paradosso. Sì, è un bel paradosso. È una sinistra che dice sempre che loro sono democratici, loro sono il partito democratico, loro sono i democratici per eccellenza, che vuol dire che tutti gli altri, quelli che non sono d'accordo con loro, non sono democratici. e quindi stanno sempre all'iride. Tu che sei di destra, che ci parli di democrazia, tu che sei di destra, che ti permetti di citare la Costituzione, tu che sei di destra, sei zitto. Beh, se io sono di destra e vi devo dare lezioni di democrazia e sono così distante dalla democrazia, pensate come siete messi. Però, in un momento difficile del Paese, non dico avvocare i pieni poteri a se stessi, è normale per cercare di sviluppare in rapidità, prendere le decisioni. Poi, se il problema è che sbaglia prendere le decisioni, quello te ne assume le responsabilità. Qual è il punto? Perché Orban, alleato vostro, diciamo, in Ungheria, ha detto voglio i pieni poteri. Allora, se lo chiede Conte va male, se lo chiede... No, allora, abbiamo messo molte cose insieme. Orban è un signore che si è fatto dare dal Parlamento, perché la Costituzione ungherese lo prevede, dei poteri straordinari durante l'emergenza coronavirus. Segnalo, apre e chiudo parentesi, che non l'ha fatto solo Orban in Europa, l'ha fatto, per esempio, anche il Premier svedese, che è un socialista, ma di quello lei non sentirà parlare, perché essendo di sinistra, i poteri, diciamo, li può chiedere. Invece, siccome Orban è, diciamo, considerato un conservatore, di destra è un problema. Ecco, ma qual è il punto che non va? Ma quello che è successo in Ungheria e quello che è successo in Svezia è diverso da quello che è successo da noi, perché da noi la Costituzione non prevede la possibilità che il Parlamento, diciamo, trasferisca in fase di emergenza al Presidente del Consiglio dei poteri straordinari. Ciò non toglie, e noi non abbiamo come Parlamento votato una legge di questo genere. Noi stiamo andando avanti con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ricordo essere degli atti amministrativi che di fatto rappresentano una interpretazione estensiva del primo decreto che votammo. Mi spiego. Il 23 febbraio... Sì, però, Zagrebelsky, che è stato ex Presidente della Coppa Costituzionale, ha detto che, insomma, tutto passa da verso dei decreti legge finalizzati anche in Parlamento. Allora, attenzione. Io non sto dicendo che Conte agisce contro la Costituzione. Giletti, se io pensassi che abbiamo un Presidente del Consiglio che agisce contro la Costituzione, griderei al colpo di Stato. Io sto dicendo un'altra cosa, perché quello che affrontiamo noi non ha precedenti. Sto dicendo che se all'inizio dell'emergenza, come può accadere, come è accaduto col coronavirus, ma come magari sarebbe accaduto se ci fosse stato un terremoto, il Presidente del Consiglio fa bene a dire vado in televisione, intanto faccio la conferenza stampa, tranquillizzo i cittadini, forse anche in pigiama, poi faccio il decreto che serve a mettere una toppa, poi vado in Parlamento perché non ci sono i tempi. E infatti all'inizio noi l'abbiamo consentito a Conte, abbiamo detto vai, fai. E' stato fatto un primo decreto che consentiva a Conte di fare alcune misure in alcuni territori e in alcuni ambiti. Quella legge, quel decreto, diceva ulteriori misure di contenimento, cioè puoi fare altro, in riferimento comunque sempre alla prima zona rossa. Noi con quelle quattro parole, noi di fatto abbiamo sospeso le libertà fondamentali in tutto il territorio nazionale. E io penso che se l'emergenza potesse funzionare i primi tre giorni, dopo tre mesi, dopo due mesi, lo schema di andare in televisione, fare la conferenza stampa, puoi fare il tuo personalissimo decreto in cui decidi della vita e della morte delle persone e poi venire in Parlamento a informare il Parlamento di quello che è già deciso, penso che non si possa più fare. Ma lei pensa che lui usi la televisione negli orari importanti delle 20 e 20 per parlare al Paese in modo così o c'è anche un... Io penso che, ripeto... Per comunicare un momento difficile io penso che dopo due mesi non ci sia... Tre mesi dalla dichiarazione allo stato d'emergenza, due mesi dal primo decreto, non ci sia alcuna ragione di procedere così. A meno che il governo non pensi di utilizzare l'emergenza coronavirus per accrescere, diciamo così, il suo potere, la sua visibilità. Dicono le conferenze di Conte, scusi, dico solo questo, le conferenze di Conte sono molto viste. E beh, ti credo. Perché ormai in Italia gli italiani devono guardare le conferenze di Conte per sapere quali sono i loro diritti. E oltretutto manco ci si capisce niente. Poi lei capisce dopo o no? Secondo me non è normale questo. Lei capisce dopo la conferenza o no? No, guardi, io non solo non capisco niente, ma purtroppo, essendo in ogni caso presidente di un partito politico, quando finiscono le conferenze stampa di Conte, io vengo raggiunta da migliaia di telefonate di gente che mi chiede un'interpretazione autentica che non sono in grado di fornire perché con me quei decreti nessuno... Anche la famosa storia degli affetti stabili. Oh, guardi, la famosa cosa degli affetti stabili ci si è fatta molto ironia, ma secondo me c'è poco da ridere. perché insomma è un giurista, no? Quando il legislatore usa dei termini che non hanno una certezza giuridica, Giletti, sa che cosa accade? Che la norma è interpretabile in maniera discrezionale. Che si decide cos'è un affetto stabile, dipende chi me lo chiede. Vediamo chi me lo chiede e ti risponderò. Scusi, posso farglielo vedere? Perché noi abbiamo giocato, glielo ho detto perché noi abbiamo un po' giocato su questa cosa. Abbiamo un'attrice molto brava, Rosanna Sferrazza, molto brava, molto brava. è andata in giro per Roma. Sorridiamo anche in un momento così, dai. È tutto chiaro per i 4 chi può vedere o no? Stiamo facendo un sondaggio. Ha capito che può vedere anche gli affetti stabili? Non lo so, signora. Questo dipende tutto anche dall'azienda. Dal 4 maggio posso vedere anche un amante. Fa l'autocertificazione. Penso di sì. Sì, io te lo dico io, vada tranquillo. C'è una casetta qui vicino a un baffiano lo manco. Ma dentro quella casa c'ha un affetto stabile? Penso di sì. Buongiorno, Angelina. Li chieda se vuole diventare il suo affetto stabile. Senti un po', Angelina, siccome io per venire da te lì, ha capito? Per venire lì ci vuole il permesso, ha capito? Ci vuole l'aspetto stabile. Tu dici di sì, è logica. Voi li volete bene, solo se li volete bene, siete l'aspetto stabile. Va bene, ci vogliamo bene. Siamo moglie e marito. Allora, lei guardi dall'altra parte. Scusi, non è che c'è un amante o qualcuno da trovare? È certo. Lei lunedì lo può trovare, basta che non dica a sua moglie. No, no, no. Quindi non è cambiato niente, è ovvio che non trovi, non sembra la stessa storia. Un congiunto può anche essere una mia carissima amica dai tempi del liceo. 60 anni di amicizia valgono. Lei le ha detto solo amici veri. Se lei la chiama questa sua amica, secondo lei lo sa che il segno zodiacale è? Qual è la prima volta che vi siete conosciuti? Quando sono nato io? Che giorno sono nato? Il 4, ma il 168. Fantastico. Il segno di Elvin. Il segno zodiacale? Sì. Eh, oddio, adesso me lo ricordo. Porca miseria. Non va bene. Io la cancellerei dalla rubrica. della segreteria telefonica. la segreteria telefonica. Ma io signora, io sono delusa per lei, cioè 60 anni di amicizia, un affetto stabile e non risponde e parte la segreteria. E poi non mi ha neanche detto niente. a chi è ricco di amanti, perché anche l'amante ha un affetto stabile. No, magari ce l'avessi. A una certa età non è che ti va tanto. Ah sì? Ma no, è come l'appetito, viene mangiando. Si dice, magari allora mi capitasse uno buono. Abbiamo voluto un po' sorridere. No, ma ci sta, perché su questo è stata fatta tantissima ironia. Però torno al tema, cioè il punto è che quando tu non hai una certezza, chi lo decide? Cioè chi lo decide poi fisicamente da domani, 4 maggio, chi decide qual è un affetto stabile? Devo essere fortunata di incontrare la persona ragionevole oppure c'è una commissione governativa, visto che le hanno fatte qualunque cosa, hanno anche istituito il ministero della buetità, visto che hanno fatto la commissione contro le fake news che ci deve dire chi scrive delle cose false sui temi sanitari che poi uno vorrebbe ricordare che all'inizio della pandemia ci hanno spiegato che gli asintomatici non erano contagiosi, quindi forse l'OMS che dovrebbe essere sanzionata dalla commissione fake news del governo, però che c'è una commissione che dice da quanto tempo ecco, tipo no, da quanto tempo state insieme? Adesso, veniamo alla destra. Purtroppo, è un precedente pericoloso, ecco, questo voglio dire, che rimanga agli altri. Senta, mi torna una curiosità, ma perché si parla sempre di tensioni a destra? Perché compatti facciamo paura. Lei sta crescendo molto, no? Perché compatti facciamo paura. No, no, però compatti avete i grandi numeri, però si trova, cioè, vogliono creare delle tensioni che ci sono o non ci sono, anche voi comunque avete preso delle decisioni diverse, per esempio, non avete voluto occupare il Parlamento come ha voluto fare la Lega, avete bocciato l'idea di scendere in piazza per motivi ovviamente anche un certo io. Cioè, queste divisioni si leggono come tensioni oppure sono... Queste, diciamo, queste idee, perché noi siamo intanto tre partiti diversi, questo va sempre ricordato, se fossimo perfettamente identici su tutto, Giletti saremmo un partito solo, ci sarà una ragione per la quale siamo alleati. Siamo un'alleanza stabile. Ecco, diciamo, siamo più stabili di molti di quelli che domani andranno a trovare dei miei amici facendo... Io posso andare a trovare da domani sia Salvini che Berlusconi. Da domani andrò a trovare sia Salvini che Berlusconi, perché sono assolutamente delle relazioni stabili. Poi, ci sono delle sfumature, delle diversità, è normale che ogni partito organizzi i suoi eventi, le sue manifestazioni. ma la mobilitazione di centrodestra che lei ha avuto come idea, gli hanno risposto gli altri Salvini e Berlusconi? È un'idea che io ho raccontato ma che non ho ancora formalizzato a loro, penso ne parleremo ripeto a partire da domani. Finora abbiamo, ognuno ha organizzato le proprie iniziative. Noi abbiamo organizzato la prima manifestazione di piazza in Italia ai tempi del Covid, questa che vede qui, e io avevo anche pensato a invitare anche gli altri per farla tutti insieme, ma siccome era la prima che facevamo con distanziamento, una cosa è organizzare 50 parlamentari, una cosa è farlo con 400. Però magari sarebbe bello se questa stessa iniziativa che abbiamo organizzato perché c'erano migliaia di persone che ci chiedevano di scendere in piazza, ma non volevamo ovviamente fare cose che potessero essere... Lei mi dice va tutto bene, adesso va tutto bene. Io dico va tutto bene, dico che mi pare che si fomenti molto queste divisioni, quello va meglio di te, ogni giorno è un continuo, siamo un'alleanza stabile. Lei ha visto che anche Boccia oggi è in grande tensione tra alcune regioni, in particolare con la Calabria, Boccia ha detto ho impugnato, basta, non accetta questo fatto che le regioni vadano un po' una per l'altra. Il punto però che ho letto anche delle interviste di virologi importanti è che non si può trattare ogni regione come le altre, cioè la Lombardia ha un focus purtroppo molto alto, ci sono alcune regioni come Molise dove non è successo nulla, per fortuna, altre però Boccia dice in campagna, in Calabria si sono fatti la metà dei tamponi rispetto per esempio al Trentino Alto Adige, quindi attenzione a fare le valutazioni. Lei come la vede questa divisione? Guardi, io vedo che bisogna essere seri sul tema delle riaperture e per seri intendo che intanto noi dobbiamo sapere che con questo virus avremo a che fare a lungo, però dall'inizio dell'epidemia ad oggi noi sappiamo con maggiore chiarezza come si muove il coronavirus. Il coronavirus ci dice delle cose, oggi i dati ci dicono le cose importanti, ci dicono che c'è una letalità assolutamente diversa tra gli anziani e i giovani, ci dicono che sul territorio nazionale la diffusione ovviamente in alcuni territori è molto forte e in altri è sostanzialmente inesistente e io penso che noi nelle riaperture non possiamo non tener conto di queste differenze quindi sono d'accordo con i videologi che dicono non puoi trattare un territorio focolaio e allo stesso modo che la Basilicata che è una regione nella quale ad oggi la diffusione del coronavirus non c'è. Tra l'altro in Basilicata sono stati molto bravi a gestirla tutta Italia sono stati il viceministro mi ha detto no ma in particolare ha fatto delle visite mirate in Basilicata sulle strutture diciamolo le cose che funzionano si dice sempre al sud le cose non va il ministro che va lì insomma è importante ricordarlo però insomma noi dobbiamo A valutare la differenza di diffusione sul territorio possibilmente tenendo sotto controllo quella diffusione quindi il tema dei tamponi a tappeto è un tema centrale B tenere in considerazione la diversità dell'impatto che ha in base all'età la letalità è molto alta sopra i 70 anni e molto molto bassa quasi inesistente tra i giovanissimi e sono differenze che devi tenere in considerazione C io sono contrarissima alle riaperture per settori la riapertura per settori cioè dire tu riapri e tu stai chiuso in base al codice Ateco è la cosa più facile da fare per il governo ma condanna a morte senza motivo intere filiere produttive non si può stabilire che gente che ha un codice Ateco sfortunato debba morire per decreto allora io penso per esempio che un ristorante che ha un grande giardino sia più sicuro in molti casi di un minimarket ok? come si fa a riaprire? secondo me il governo deve stabilire i protocolli deve dire queste sono le regole chi si adegua alle regole ne parliamo dopo la pubblicità che è un tastativo volevo far vedere prima della pubblicità una foto di un mio grandissimo amico è Lamberto Sposini che ci sta guardando in questo momento e volevo mandargli un bacio un abbraccio fortissimo come quando ci vediamo ci stiamo lì abbracciati abbracciati un bacio enorme ci vediamo dopo la pubblicità ciao Lamberto allora Giorgia Menoni stavamo parlando delle ripartenze sì no stavo dicendo che secondo me appunto da domani in parte si torna 4 milioni e mezzo da domani in parte si torna però secondo me con delle discriminazioni che sono la cosa più facile da fare per il governo io ripeto penso che il governo si debba assumere le sue responsabilità dice guarda queste sono le prescrizioni alle quali tutti devi attenere distanze mascherine questo è quello che devi fare chi è in grado di mantenere quelle prescrizioni riapre non i codici chiaramente su differenza territoriale questo lo puoi tenere in considerazione ma il tema dei codici secondo me è altamente discriminatorio e poi voglio dire un'altra cosa ci sono delle riflessioni che a questo punto vanno fatte uno lo devo fare sul tema sanitario Massimo perché noi su tutto il territorio nazionale di fatto abbiamo sospeso le prescrizioni ordinarie perché si temeva che poi le terapie intensive sarebbero state intasate e quindi nella paura di si sia sospeso tutto il resto ora però sono passati due mesi e nella vita non si muore solo di coronavirus siccome c'è gente che sta aspettando screening oncologico pap test una operazione che magari può cambiare il decorso di quella malattia e dell'esito di quella malattia io mi permetto di suggerire timidamente al governo al ministro Speranza di prendere in considerazione l'ipotesi almeno nelle regioni nelle quali non c'è stata una diffusione accesa di riaprire il lavoro ordinario della nostra sanità diciamo che per esempio il boss Zagaria che ha fatto c'è stata una grossa discussione anche in questa trasmissione col capo del DAP non è stato non ha potuto andare a fare questi esami all'ospedale di Sassari proprio perché sono tutti barricati e quindi poi addirittura quello se ne è andato a casa diciamo che piuttosto il boss Zagaria per carità però ecco penso no e nasce da un problema di non poter usare gli ospedali nella normalità lì nasce però anche da una sostanziale diciamo incapacità del governo in corso mi dispiace non lo dica me che abbiamo fatto una battaglia lì nasce dal fatto che il governo se l'è fatto addosso quando ci sono state le rivolte nelle carceri e invece di punire in maniera esemplare chi era stato responsabile delle rivolte delle carceri ha deciso che preferiva scenderci a patti questo è il tema vabbè questa stasera faremo vedere dei documenti delicati però non voglio entrare in questo perché lei la questione la conosce meglio di me quindi secondo me il tema sanitario ha affrontato altre questioni gli sport agonistici dal campionato in poi chiaramente senza pubblico però ha stabilito che no perché si ride il campionato di calcio vale 800 milioni di euro cioè questi no ma perché si fa molta ironia sul calcio no no non c'è da fare ironia è un volano dell'economia c'è da valutare come stanno le cose la letalità del coronavirus per un giovane atleta è obiettivamente diciamo credo lo 0,3% la letalità vuol dire sul numero dei contagiati delle precauzioni precise e si può provare io sono favorevole a che con precise prescrizioni precauzioni ovviamente senza pubblico i tornei agonistici a partire dal campionato di calcio riapri senta le chiedo una cosa ci sono molte polemiche ancora sul MES voi siete davvero convinti insomma la destra in generale vedo Salvini quando l'ha avuto qui ha detto no no non si deve accettare anche il Movimento 5 Stelle è molto diviso al suo interno ma questi 37 miliardi se davvero fossero senza condizioni perché il punto è lì non si può sedersi cioè io non capisco è una questione ideologica non si può sedere a un tavolo e ascoltare se questa cosa del rischio troica se c'è lo capisco ma se non ci fosse perché non si può sedere? allora guardi io non faccio mai questioni ideologiche su questa roba qui ok? farebbero comodo però capiamoci farebbero comodo ma secondo lei ce li regalano? no perché in Italia noi stiamo raccontando questa cosa come se l'Europa ci volesse regalare 37 miliardi allora sgomberiamo il campo ma questo non ci li regala se l'Europa mi vuole regalare 37 miliardi io me li prendo è chiaro? ma non ce li stanno regalando perché glielo dico punto primo noi nel MES ci abbiamo messo 15 miliardi e ci siamo impegnati a metterne 125 quello che l'Europa mi dice oggi è te ne presto 36 me li ridai con gli interessi quindi ci prestano i soldi nostri e li dobbiamo restituire con gli interessi e già secondo me non è una cosa intelligentissima sarebbe meglio riprendersi i propri 15 miliardi di euro senza dover dare gli interessi a nessuno dopodiché il MES nel momento in cui quei soldi anche senza presunte condizionalità ma poi ci arrivo sono un prestito le segnalo giletti che i prestiti senza condizioni non esistono sono prestiti però si potrebbe visto la difficoltà a pensare che a quel tavolo su quei soldi si facciano le condizioni intelligenti il MES è un trattato internazionale in quanto tale per essere modificato ha bisogno dell'unanimità degli stati che ne fanno parte quindi lei pensa che non si arriverà a una condizione favorevole o si modifica il trattato internazionale o a casa mia vale quello che c'è scritto nel trattato internazionale come quella del coronavirus l'Europa è così miope che non lo fa l'Europa secondo me è molto miope e in particolare in questa fase è miope la Germania che non capisce che o l'Europa si palesa adesso o rischia di non esistere più ma purtroppo i tedeschi hanno a mio avviso un obiettivo che storicamente è quello di far ripagare il debito italiano dal risparmio privato degli italiani tant'è che se lei si va a leggere i quotidiani tedeschi e gli approfondimenti leggerà di proposte di tassare i risparmi ai patrimoni degli italiani del 14-20% per rientrare del debito pubblico italiano che è storicamente il grande obiettivo dei tedeschi il fondo salva stati con le condizioni serve a questo che cosa ha detto il direttore del MES così non lo dice Giorgia Meloni ha detto le condizioni light per noi durano fino alla fine dell'emergenza poi dopo due righe ha detto per noi la fine dell'emergenza è fra un anno scusi o noi pensiamo di restituire 36 miliardi di euro in un anno o il gioco è quello del topo col formaggio vieni a prendere i 36 miliardi e fra un anno ti scatta la tagliola e tieni la troia dentro c'è in corso mentre parliamo io e lei una nuova riunione del governo che conta sul decreto di maggio che penso fosse quello di aprile noi speravamo in una conferenza stampa che oggi è domenica invece questa settimana il decreto non è andato in onda l'altra settimana abbiamo già sbarrellato tutti i programmi non è andato in onda la nostra puntata però lei c'è questa riunione importante e siamo molto contenti che finalmente al 3 di maggio oggi è 3 di maggio si sia cominciato a parlare del decreto di aprile va bene questa è Giorgia Meloni Presidente dei Fratelli d'Italia ringrazio Giorgia Meloni di essere stata qui con noi mi sposto delicatamente perché sa che non possiamo purtroppo incontrarci un abbraccio a Ginevra una saluti la piccola Ginevra arrivederci e adesso andiamo a far vedere